le telecamere, montate sotto, ecco, queste sono le telecamere che danno direttamente alle immagini del rio sul piattello e queste immagini si vedono direttamente sulla barca e qui inizia la risalita, risalita fatta, soprattutto a forza di braccio, perché è molto meno faticoso che non farsi tutta la risalita pit, occhi chiusi, massima concentrazione e si risalte, momento più difficile, lo stacco dal fondo, qui da 130 metri a 140 metri fino a 90 metri perché è più faticoso l'esercizio e negli ultimi metri che girano la superficie qui dai 25-30 metri fino alla superficie perché l'aria sta per finire, la prea necessaria per un tentativo di questo tipo è stato, ecco, questo è l'uscita d'era di qua, quando ho fatto questo tentativo ho impiegato 3 minuti e 30 secondi, più o meno, ma è discesa, per una salita, non è un tempo enorme se vanno in piscina da fermo, se dopo un minuto e 40 di apnea a 140 metri fai un altro minuto e mezzo di sforzo per una salita, vi assicuro che è abbastanza faticoso, se volete provare, ve lo faccio fare rapidamente, ecco.